Al giorno d'oggi usiamo i nostri telefoni per tutto. Telefonate, sveglie, per riprodurre musica o video e molto altro ancora. Ma i telefoni non sono fatti per avere altoparlanti ad alto volume. Gli altoparlanti Bluetooth sono problematici e le batterie non durano. Ti presentiamo Easy Touch Speaker, l'altoparlante ricaricabile e caricatore wireless che funzionano con un semplice tocco del tuo telefono. Non ci sono fili o complicate connessioni Bluetooth. Basta appoggiare il telefono sull'altoparlante e questo si connetterà automaticamente al tuo telefono. È come una magia! Il segreto sta nell'induzione del campo magnetico che cattura le onde sonore e le amplifica. Basta appoggiare il telefono e il suono viene immediatamente amplificato. Ora potrai sentire meglio! Guarda qui! Cosa? È incredibile! Lo so, non è incredibile! E funziona solo con il tocco! Basta toccare! Prova! Che figata! Wow! Lo so, non è fantastico! Qualsiasi telefono! Prova il tuo! Oh! Le chiamate telefoniche saranno forti e chiare. Potrai goderti videochiamate con i nipoti o semplicemente ascoltare la tua musica o i tuoi video preferiti. Inoltre, Easy Touch Speaker è anche un caricatore wireless, proprio così puoi caricare il tuo telefono e allo stesso tempo amplificare il suono. Easy Touch Speaker funziona con qualsiasi smartphone o tablet. Basta posizionarlo e si connette automaticamente. Basta posizionarlo e si connette automaticamente. Smetti di lottare con il volume basso del telefono o di cercare di connetterti a complicati altoparlanti. Con Easy Touch Speaker è facile sentire forte e chiaro. Semplice e piacevole, proprio come dovrebbe essere. Wow, è incredibile! Chiama e ordina il tuo altoparlante Easy Touch per amplificare istantaneamente il suono del tuo telefono. Ma aspetta, oggi puoi approfittare di questa offerta esclusiva di ECL Shop. Chiama ora o vai sul nostro sito per ottenere subito uno sconto speciale del 50%. Niente di più facile e conveniente. Easy Touch Speaker è l'altoparlante per telefono più facile da usare. Non aspettare! L'offerta è limitata. Chiama ora o vai su www.eclshop.tv Ti suona familiare? Che ho mangiato a pranzo? No, ho detto come ti senti? Non riesco a sentirti, ho il volume al massimo, ma non riesco a sentirti. I telefoni non sono fatti per avere altoparlanti ad alto volume. Gli altoparlanti Bluetooth sono complicati e le batterie non durano. Easy Touch. L'altoparlante ha induzione e il caricabatterie wireless più avanzati del mercato. Basta posizionare il tuo smartphone e questo si connette automaticamente all'altoparlante. Wow! Non ci sono fili o complicate connessioni Bluetooth. Basta posizionarlo e via! L'altoparlante Easy Touch è facilissimo. Non devi fare alcun tipo di collegamento. Non devi entrare nelle impostazioni e configurarlo. Devi solo poggiarlo su e il gioco è fatto. Con l'altoparlante Easy Touch puoi sentire il telefono squillare. Eh già, è un buon inizio. Poi puoi sentire ogni parola della conversazione che ti viene detta. Puoi sentire tutto. Saprai esattamente cosa ti viene detto. E' perfetto. Uso il mio Easy Touch speaker in continuazione. Mentre faccio una grigliata all'aperto, guardo dei video o anche durante una telefonata o una videoconferenza. E la cosa bella è che la batteria non si scarica mai. Finché è sopra l'altoparlante si ricarica. L'altoparlante Easy Touch utilizza un'avanzata induzione di campo magnetico che cattura le onde sonore e le amplifica senza alcuna distorsione. Inoltre, l'altoparlante Easy Touch è anche un caricatore wireless. Puoi caricare il telefono e allo stesso tempo amplificare il suono. Non si tratta della solita tecnologia. Ma non devi crederci sulla parola. Sentire per credere. Guarda qui. Cosa? E' incredibile. Lo so, non è incredibile. E funziona solo con il tocco. Basta toccare. Prova. Che figata. Lo so, non è fantastico. L'altoparlante Easy Touch è dotato della più recente tecnologia a induzione disponibile sul mercato che ti permette di amplificare il suono o di ricaricare in modalità wireless col semplice contatto. Easy Touch Speaker non solo sostituisce i complicati altoparlanti Bluetooth e i vecchi caricabatterie a filo ma trasforma il tuo telefono in un hub per la telefonia mobile. Sentirai il tuo telefono squillare più forte. Le telefonate e le videochiamate saranno molto più chiare. Usalo in ufficio e passa da una videoconferenza all'altra senza perdere la carica. Usalo per qualsiasi attività all'aperto per renderla più piacevole. Guarda i tuoi video preferiti o fai giochi divertenti. Il tutto mentre il tuo telefono si ricarica con l'altoparlante Easy Touch. L'altoparlante Easy Touch è perfetto per tutti. Usalo a casa o in viaggio. Usalo come amplificatore del telefono o come music box. Usalo come caricabatterie. Usalo qui, usalo là, usalo ovunque. È così facile. Tutto ciò che devi fare è posizionare il telefono su di esso e... Boom! Parte da solo. Perché pensare alle connessioni Bluetooth? L'altoparlante Easy Touch basta posizionarlo e... via! Questo altoparlante Easy Touch è davvero fantastico. Basta appoggiare il telefono e il suono viene riprodotto. È fantastico perché allo stesso tempo lo ricarica. Lo uso quando sono con i miei amici e ascoltiamo la musica. Quando sono da sola e guardo dei video. Anche in spiaggia o al parco. Lo uso sempre. Quando mia moglie vuole usare l'altoparlante Easy Touch non deve far altro che scambiare il mio telefono con il suo e si connette automaticamente perché è una connessione touch. Easy Touch è davvero facile da usare. Di notte lo metto sul comodino in modo da ricaricare il mio telefono durante la notte e al mattino aumenta il suono della sveglia perché sono un po' difficile da svegliare al mattino. Se hai problemi a sentire le normali conversazioni telefoniche, se perdi continuamente il telefono, se passi ore al giorno al telefono a guardare video, se hai problemi di batteria o semplicemente se stai cercando un altoparlante telefonico di qualità che sia davvero facile da usare, l'altoparlante Easy Touch è quello che fa per te. Non ci sono fili o complicate connessioni Bluetooth. Basta appoggiare il telefono sull'altoparlante e questo si connetterà automaticamente al telefono. Il segreto sta nell'induzione del campo magnetico che cattura le onde sonore e le amplifica. Basta appoggiare il telefono e il suono viene immediatamente amplificato. L'Easy Touch Speaker non è solo un altoparlante, ma anche un caricatore wireless che mi permette di ascoltare musica per ore e ore e di ricaricarlo automaticamente. È tutto in uno. Lo adoro. Sto tutto il giorno con il mio telefono e l'altoparlante Easy Touch mi permette di ricaricarlo mentre lo uso. Più è facile, meglio è. E Easy Touch è molto, molto facile. Chiama e ordina il tuo altoparlante Easy Touch per amplificare istantaneamente il suono del tuo telefono. Ma aspetta! Oggi puoi approfittare di questa offerta esclusiva di ECL Shop. Chiama ora o vai sul nostro sito per ottenere subito uno sconto speciale del 50%. Niente di più facile e conveniente. Easy Touch Speaker è l'altoparlante per telefono più facile da usare. Non aspettare! L'offerta è limitata. Chiama ora o vai su www.eclshop.tv